È stato un giorno speciale per la scuola elementare Moretti di Mondolfo perché abbiamo inaugurato le nuove aule scolastiche, i nuovi spazi che ci servivano per accogliere i ragazzi delle medie. Perché i ragazzi delle medie li abbiamo trasferiti alla scuola elementare Moretti perché la media Fermi sarà oggetto di intervento, inizieranno i lavori fra qualche mese di adeguamento sismico e quindi abbiamo preparato in questo anno la scuola elementare per accogliere sia i bambini e le bambine della scuola elementare ma anche i ragazzi delle medie. Abbiamo fatto un intervento importante di 280 mila euro dove abbiamo riqualificato un'intera area, un intero cantiere sopra la palestra che era abbandonato da decenni e abbiamo realizzato due aule scolastiche che accoglieranno le classi prime delle elementari e un'aula d'insieme che accoglierà i ragazzi delle medie di indirizzo musicale. Quindi oggi è stata una giornata importante con i tecnici, le ditte che hanno fatto i lavori e anche l'istituto comprensivo Fermi, la dirigente, i docenti e tutto il personale scolastico. Quanti ragazzi, quanti alunni graviteranno in questo nuovo complesso? Circa 320 alunni, 200 circa delle scuole elementari e 120-125 delle scuole medie.